Salve a tutti ragazzi e bentornati sullo studio DATP, io sono BTX e sono sempre in compagnia di... No, 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 non posso, non posso farti il danno GAY Ciao, sono Vito di un GenZ, siamo qui in un video bellissimo, a parte possiamo fare una bellissima casa sull'albero qua Volendo sì Però introduci tu il video, dai Siamo su Minecraft, ma siamo bloccati in un chunk L'obiettivo di questa puntata è farci una casa, anche molto minimale, perché non è che abbiamo chissà quante risorse a disposizione Abbiamo 3-4 alberi in croce La dovremmo giocare con gli arborcelli Piccola informazione, questo mondo, questo server è stato creato in Minecraft 1.16.5 Ossia prima dell'aggiornamento delle caverne Questo perché odio le caverne nuove, mi fanno cagare veramente tantissimo Sono troppo complesse, per trovare un po' di ferro devi scendere nell'entroterra No grazie, molto meglio le vecchie versioni Ma sto pensando una cosa prima di tutto Qua come cazzo ci formiamo il cibo? Dobbiamo farci i semi immagino I semi, ma in realtà qui abbiamo una pecora, solo una Ok, un seme Ora per trovare l'acqua dobbiamo andare in una caverna e sperare di trovare una fonte d'acqua appunto Madonna, io ho trovato l'andesite Ma mi sa che è un chunk anche a scendere, porco due Faccio una paletta veloce veloce così perlomeno delimitiamo la caverna Piccato, c'è che potremmo fare per l'acqua? Se abbiamo abbastanza ferro, potremmo fare i calderoni e prendere l'acqua piovana Anche volendo, che poi mi sono anche reso conto che poco distante dal chunk in cui siamo intrappolati c'è anche una fonte d'acqua che però non possiamo raggiungere Oh cazzo, ah è vero, è anche sottoterra delimitato, cazzo È un chunk in tutto e per tutto No, provi di qua Che è successo? No, no C'è una pecora, che facciamo? Dovremmo sperare che ne esponi un'altra E anche la pecora può andarsene dal chunk, è intrappolata con noi Penso che se lei se ne possa andare No, 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 ci ha provato ad andarsene, non c'è riuscita Ma da quanto tempo non craftavo la carbonella? Eh sì, abbastanza Io sto un attimo delimitando le zone Anzi, mi faccio anche una bella pala in pietra E ho fatto una bella stanzetta qui sotto, un bel rettilineo Wow, ma tu hai già fatto proprio tutto il... No, già c'era, l'hai fatto tu questo Mi presti un attimo la pala se non ti serve? Yes, un attimo che faccio delle torce, la pala della servo Una piccola cestettina la faccio Hai visto, chunk? Non troviamo niente Quanti semi hai? Ne ho uno, proprio uno contato Già conviene di anche solo avere la zappa Per farti capire, mi si muore il piccolo in legno Cioè l'unico è sperare nella profondità Ora l'obiettivo è trovare un po' di ferro Farci un secchio e trovare una fonte d'acqua E così perlomeno mettere i semi a crescere Doviamo sperare di farci la forma d'acqua infinita Con i materiali che prendiamo sicuro ci facciamo la casa nel chunk Oh, quattro arbocelli, perfetto Questo lo metto qui In realtà non c'è molto spazio Quindi dobbiamo anche pensare a spienare un po' questo chunkettino Poi un altro alberello lo possiamo mettere qua Si è fatta pure notte, fuori Eh, vieni dentro Ok, sai che faccio? Prendo sto dodici E a dodici sicuramente troverò del ferro, no? Ci scavo Gravel, gravel, un sacco di gravel Mi lanci delle torce Redstone, redstone Prima la redstone e poi il ferro C'è un albero che non so come ho fatto a tagliarlo Perché praticamente stavo al bordo L'ultima linea sulla quale potevo scavare l'ho preso Un blocco di redstone Ce l'ho trovato il ferro? Un blocco Ah, mi lanci due piccoli in pietra, grazie Ragazzi, io non ho mai capito perché questo cristiano Altresivit di un genzeta Quando va in caverna su Minecraft Deve sempre rompere il cazzo Perché non ha il legno Non ha il piccone Non ha Non cazzo Ecco perché io mi butto direttamente Mi butto direttamente all'avventura Le torce le mettiamo anche i lati Così abbiamo un'illuminazione più che sufficiente Madonna, quest'albero di pedula Che si trova proprio un blocco Oltre il limite Non si può guardare Mi sembra che sto a fare una casa Pensate che storia Io dico qualcosa di particolare Penso che storia C'è un beccato Il nome del chunk senza caverna Senza un caverna Però io penso che più che il secchio Se non troviamo una caverna Dobbiamo farci i cosi Oddio che comunque servirà il secchio Però mi sa che il secchio ci servirà Per quelli che raccolgono l'acqua piovana Per i calderoni, sì Sento un sacco di mob C'è una caverna Come senti una caverna? Come senti una caverna? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Devi tornare all'inizio Sento pipistrelli Mini zombie Zombie Scheletri La mamma pure Ma in realtà il fatto è che Seppure li troviamo Possiamo anche essere avvantaggiati dal chunk Perché sono tipo limitati Se li troviamo oltre Aspetta ma io ti vedo Stai proprio sotto di me Sento anche acqua Attenzione Carbone Ci si sta svoltando l'episodio Oh ferro anche Oddio mini zombie Madonna di dio Troppa gente Aspetta Oh ma questa è una farm comunque Wow guarda come si è limitato il chunk Porco due Ma quanta gente Madonna Io con la mia pala in pietra Possiamo anche fare esplodere il creeper Per ammazzare È un po' difficile farlo esplodere Perché si sta mantenendo a distanza il minchione Ok aspetta C'è lo scheletro Quanti cazzo di pipistrelli Tantissimi Mi raccomando l'acqua Non la tappare assolutamente Che ci abbiamo solo questa Se no siamo morti Ho tre pezzi di ferro Vado sopra Vado a fare un secchio Prendo l'acqua e metto a fare il semino Perfetto Torno anche io sopra Perché anche io c'ho un seme Anche io c'ho roba Vai a un seme Degli alberi Che poi potremmo fare anche la casa in cobblestone Volendo sì Tanto perché alla fine qui sopra Non spuna niente Perché è ben illuminato Bisogna solamente trovare la fonte Ok presa Qua c'era una bella caverna Che non possiamo esplorare Eh ma quindi ora devi fare Quattro volte il giro Per fare la farm d'acqua Giusto? No due volte semplicemente Fare un buco due per due E metterci l'acqua Su due giri in tutto Io vado sopra Faccio la farm d'acqua infinita E metto a fare i semini Sì aspetta prenditi pure il mio di seme La frase è più inquietante dell'altra Sì sì lo so Che quel seme potrebbe essere Farenteso in 30 modi diversi Ora che ci penso Mi sa che non possiamo fare La farm d'acqua infinita Perché quella lì sotto in caverna Era one shot Cioè era solo una fonte d'acqua Che tu la prendi e scompare Se trovi abbastanza ferro Fai il calderone Ce l'hai abbastanza ferro Aspetta ma la posso prendere Ma come è possibile Che possa andare oltre i confini Cioè aspetta Mi sa che la posso prendere invece l'acqua Non puoi andare oltre il chunk Ma non è che non puoi prendere la roba Oltre il chunk No non posso prenderlo No Ferro Ok perfetto Tantissimo ferro Posso anche scavare Sì che posso anche scavare Quello al limite Otto Ok perfetto Ora salgo Cuocio il ferro Faccio il calderone Faccio un altro piccone Perché appunto devo andare sotto Perché sentivi i mob Può esserci un'altra fonte di acqua Se siamo fortunati Ok sta piovendo Prendi il calderone E mettilo subito immediatamente Ma ce l'hai un po' di ossa no? Ne abbiamo una Però ora che me l'hai detto Posso fare il bomb meal Che lo posso mettere Eh infatti quello ti volevo dire Per fertilizzare il grano Ok Due semini Un po' di grano Oddio sta anche tuonando Allora il calderone Lo mettiamo possibilmente qui Così raccoglie l'acqua piovana E appena possibile La prendiamo col secchio O possiamo ampliare la farm Un altro po' Un altro po' di semini Per caso no Però due sapling Queste foglie che dobbiamo demolire Qua l'hai messo al limite E l'importante è che non c'è qualcosa Che lo copra sopra Secondo me sa che è Sti arborcelli Madonna la vecchia musica di Minecraft Help Bro ma è quello blocca la cosa Mica l'alberello di quercia Sicuramente c'è qualche altro blocco di legna Eh sì Eh infatti eccolo qua Ah ma c'è pure un altro là Ce ne sono un sacco qua Di blocchi di legna Io sento ancora un sacco di pipistrelli Zombie Madonna 4 pipistrelli Ma qua c'è anche il tuo pillar Erano solamente mob messi a caso Ma non c'era una caverna Ok caverna Mi sa che è quella in cui c'eri anche tu Hai fatto una stanzina sottoterra A livello 12 Dove c'è uno Due tre blocchi di redstone Era quella la mia stanzina Ma no sono caduto sull'acqua Non sono morto per quello Io mi sa che mi suicido Nel gioco ovviamente C'è Viene il video Viene il video Ah ragazzi Vai fai crescere questo qua Questo qua Non crei Non cresce Non cresce Non cresce Non cresce È cresciuto Attenzione Così Allora ragazzi Per questa prima parte del video Finisce qui Ci è cresciuto finalmente Quest'albero dietro Quindi probabilmente Avendo eliminato L'erba di merda qua Siamo riusciti a farla crescere E sembra molto che Stiamo andando di fretta Nel fare l'altro Ma in realtà No siamo noi che siamo No in realtà Stiamo andando di fretta Perché Andando di fretta Andando di fretta Grazie a tutti.